Ia Signore, ieri di Ianni, da sardegno di Matteo, In quel tempo, Gesù dice, non abbiamo l'opera di quello che è uscito nel mondo, ma andranno a poter esistere l'anima. Se mette il corpo, lui che ha il suo bene, fa venire l'anima e il tuo rumore d'accesso. Le parti non si mettono forse per il suo corpo, eppure neanche nessuno viene, che avrà l'assenza di un padre controllo. Quattro, voi, per finire che avete il nostro lavoro, non abbiamo l'opportunità, non abbiamo l'opportunità. Voi sarete con i nostri amici. Chi non mi riconoscerà l'anima e il tuo rumore, non mi riconoscerà l'anima e il tuo rumore, non mi riconoscerà l'anima e il tuo rumore. Chi se crede, io mi riconoscerà l'anima e il tuo rumore, non mi riconoscerà l'anima e il tuo rumore, non mi riconoscerà l'anima e il tuo rumore. Chi non mi riconoscerà l'anima e il tuo rumore, non mi riconoscerà l'anima e il tuo rumore, non mi riconoscerà l'anima e il tuo rumore. Chi non mi riconoscerà l'anima e il tuo rumore, non mi riconoscerà l'anima e il tuo rumore, non mi riconoscerà l'anima e il tuo rumore. Chi non mi riconoscerà l'anima e il tuo rumore, non mi riconoscerà l'anima e il tuo rumore, non mi riconoscerà l'anima e il tuo rumore che Никite� specific. Chi non mi riconoscerà il Turbo che hanno chiesto di armi e armi e armi e armi, a morire il corpo che trago il mio, che deve essere capace, che è inizia in mirare prima di alcuni che hanno sbagliato, semplicemente attraverso il corpo, attraverso l'impedimento e il Cristo della Chiesa. Agatha è pronto a morire e pronto a dare la possibilità che ha accettato la parola di Gesù, la parola della Dio, che è dicendo con la vita e l'ottica di quelli che possono uscire nel suo corpo, a dimostrare il Cristo di chi può toglierci un cuore di armi e di vita, un cuore pieno di Dio. che è il suo corpo, perché il Cristo di chi può toglierci e lo vogliamo accogliere con tutti i giorni. Non abbiamo in paura, da altre spedicerie che non è iniziale, non abbiamo in paura di Dio. Perché il mio cuore è quello, siamo sempre pronti e le persone non hanno iniziale. e facciamo attenzione ma guardare ciò che fa iniziato con le persone